Weee! Non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi quante novità in queste 48 ore di Fortnite! Tutti abbiamo visto l'altro ieri l'arrivo finalmente del set di Batman con le relative sfide e tante tante novità connesse anche alla nuova città di Gotham City! Abbiamo giocato, l'abbiamo provata personalmente, mi piace tantissimo questa collaborazione e questa ambientazione, ma ci sono tante domande che meritano ancora una risposta e che ovviamente cercherò di darvi nel video di oggi! Parleremo proprio ragazzi della skin di Joker! E sì, perché tutti ci aspettavamo che nelle due skin maschili liccate relative al progetto Fortnite con Batman arrivasse anche una skin di Joker! Nessuno aveva pensato che sarebbero invece state due skin, due skin tutte e due di Batman, quindi gli stili del vecchio Batman e di quello nuovo! Ma ragazzi, nella serata, poco prima che iniziasse a registrare questo video, sono circa le 22 qualcosa di domenica sera, è stata scoperta la schermata di caricamento della settimana numero 10 e della settimana numero 9! E sono ragazzi assurde! Le vedremo insieme, cercheremo di studiare un attimo quello che significano! E chiudiamo anche con il bug dei regali della Premiere che tutti hanno aspettato, me compreso, e che purtroppo non sono arrivati! Vi darò delle informazioni che vi faranno sicuramente restare un po' più tranquilli! Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che mi supportano con il mio codice creator, Xiu Derone, grazie di cuore ragazzi! Per supportarmi quando ciò pazzate di prepotenza nello shop, mi raccomando, iscrivetevi al canale Twitch e YouTube e soprattutto... ...attivate la campanella per non perdere le notifiche dei miei video e delle mie live! Ma prima di andare, io ve la devo fare ragazzi, la domandina! Ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti qui sotto ed è veramente easy, easy! Come ti sembra il bundle di Batman? Non posso non sapere la vostra opinione, sono super interessato come vi avevo anticipato, a me piace tantissimo, veramente mi piace come collaborazione, amo Batman quindi sono un po' di parte, però devo dire che Catwoman non mi piace tantissimo come l'hanno fatta, lui invece ci sta per essere un modello in 3D, mi piace veramente un casino! Ma quindi, ciancia le bande! E vanno alle ciance, andiamo subito subito ragazzi a vedere ancora qualche secondo la collaborazione, o meglio la premiere di Batman. Sabato alle ore 14 è partita quella premiere di 37 secondi nel canale ufficiale YouTube di Fortnite con quasi mezzo milione di spettatori presenti che giustamente si sono collegati a guardarla per il messaggio, che cavolo ho sbagliato mandare, per il messaggio che hanno twittato proprio quelli dello staff di Epic Games dove dicevano, turn tomorrow, mi raccomando in poche parole in soldoni, siate a vedere la premiere perché vi daremo dei regali, un po' come è successo per la premiere delle World Cup. La domanda numero uno è qual è il regalo che dovevano darci? Ragazzi, il regalo era questo, uno standardo extra proprio con la testa di Batman. Ve l'avevo già fatto vedere quando abbiamo scaricato e visto insieme i leak dell'aggiornamento della patch 10.31 il problema è che il regalo non è arrivato a nessuno. Arriva prontamente un post su Reddit di Epic Games che dice stiamo controllando, investigando sul perché nessuno abbia ricevuto il regalo, non vi preoccupate che comunque probabilmente ci verrà dato a tutti, probabilmente come dicevo, nella patch 10.40 che dovrebbe arrivare in teoria domani. Ma andiamo avanti con il prossimo argomento e siamo ovviamente a Rift Beacon apparso nel pomeriggio, nel terda mattinata di ieri dove siamo, siamo praticamente tra Crocevia del Ciarpame e il quartiere. In una location che in realtà per i vecchi giocatori di Fortnite non è affatto anonima. Ho una fotografia molto vecchia che ovviamente non sta apparendo, ecco la qua ragazzi, che riprende proprio come era la mappa nel punto esatto del Rift Beacon. La chiamavamo i castelli medievali, si chiamavano. Era una mini city medievale con appunto tutta diroccata con dei castelli. Immaginate che di qua c'è Crocevia del Ciarpame e di là allora c'era Acri anarchici. Io non credo che tornino i castelli medievali come ce li ricordiamo per chi li ha vissuti, ma probabilmente faranno qualcosa a tema e dovrebbe essere uno degli ultimi Rift Beacon in quanto non manca oramai moltissimo al termine di questa season. E andiamo avanti con il prossimo argomento, il nostro giocherone ragazzi. Giustamente quando abbiamo capito che c'era la collaborazione con Batman e abbiamo scoperto che ci sarebbero state due skin maschili, l'idea è subito caduta su Joker, mentre nella skin femminile si eravamo dibattuti tra Catwoman oppure Crazy Harley Quinn o semplicemente Harley Quinn. Dov'è la skin di Joker? Perché non c'è la skin di Joker? Perché hanno deciso di spostare la skin di Joker e probabilmente anche la skin di Harley Quinn in una nuova collaborazione. Arriva direttamente da uno dei leakers più importanti questo messaggio che dice finalmente dopo aver controllato alcune cose so che potrebbe esserci la nuova collaborazione. Fortnite X Joker per il 4 ottobre 2019. Ora io dico forse una pistolata ma so che deve uscire il film di Joker magari esce proprio il 4 ottobre sinceramente non mi sono informato ma ho visto la pubblicità in televisione quindi probabilmente anzi io mi fiderei e direi quasi certamente la collaborazione con Joker ci sarà separata con quella del Batman che ci porterà appunto la skin di Joker e forse anche di Harley Quinn. e proseguiamo con il prossimo argomento ragazzi queste sono state liccate dieci minuti fa in poche parole sto parlando delle schermate di caricamento finali della season 10 ragazzi brividi a pensare che stiamo per entrare nella season 11 11 stagioni di Fortnite sono veramente un sacco di tempo cosa vediamo in questa schermata la guardo in realtà con calma anche io per la prima volta insieme a voi due skin nuove sono palesi questo mi sembra una versione dell'orsacchiotto il Cuddle Team Leader con gli occhi che mi vanno a richiamare i due stili che poi in realtà sono due skin del Tomato e del Pizza Pit che sono la stessa cosa del Durburger e del Pizza Pit seduto invece là in fianco non è un lama perché c'è il corno quindi somiglia proprio al corno che c'è nel piccone del bombarolo lucente come vediamo c'è una freccia sopra quella porta e una porta che dà chissà dove dà quella porta c'è una luce intensissima un mistero sicuramente che non sappiamo bene cosa possa significare non si capisce neanche se le due skin siano di guardia o siano gli ultimi non so però l'immagine che sto per farvi vedere ci lascia un pochettino più le idee chiare ed è questa ragazzi un'immagine che racconta parecchio di quello che stiamo per vedere e di quello che vi sto per dire le skin che salutano il bus della battaglia cosa vuol dire? potrei farvi anche questa di domanda perché è incredibile da vedere quest'immagine è pazzesca cioè si vede chiaramente che l'autobus se ne sta andando verso il mare non è ben chiaro perché le salutino io ho un'ipotesi io ho un'ipotesi due ipotesi prima di salutarvi ipotesi numero uno addio alla mappa cambiamento della mappa sappiamo che ci sono 12 nuove location scoperte che potrebbero stare a significare un rinnovo totale della mappa seconda opzione non ci si butterà più dal bus della battaglia non so perché ma ho anche questa impressione potrebbe essere una stupidata ma magari verrà modificato il metodo di start di ogni game io vi ringrazio però per avere guardato questo video a voi le idee se volete scrivermele qua sono super accettate mi raccomando iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao ciao ciao